ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua come ogni tanto capita ogni tanto spesso direi a vedere le collezioni dei vostri orologi siete voi che diventate i protagonisti mi mandate i video con le vostre bellissime collezioni e io li pubblico e li guardiamo insieme come fare fate un video possibilmente in orizzontale con lo smartphone e poi lo caricate sul portale wetransfer.com e inviate il link via email a me l'indirizzo è qua sotto poi li guardiamo qua li carico li guardiamo fatelo di 7 minuti non esagerate massimo 7 8 poi si può anche andare oltre se l'argomento interessante e va dipanato va bene no si diventa un pochino più lungo però ragazzi mi raccomando concisi veloci spigliati bravi come si suol dire prima di passare video vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo oris b crown mare nostrum con il quadrante blu un'edizione limitata uscita qualche anno fa per il mercato italiano piuttosto difficile da trovare adesso anche perché a un certo punto l'hanno ritirato dal mercato ma ci sono vari pezzi in giro tutto il bronzo qua che fa il suo bellissimo patinamento patinamento patina sono fa no vira come si suol dire va bene dai guardiamo il primo video mi metto gli occhialini andiamo 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 ciao davide sono pasquale da bergamo innanzitutto volevo farti complimenti perché sei stato geniale a creare questo format è veramente fantastico proprio ma si poi addirittura quando sei con piero e giacomo siete un trio fenomenale mi fate sempre divertire che faccio un po di fatica in questo periodo a sorridere però vabbè mi spiace guardi i vostri video i tuoi video e mi strappi sempre un sorriso poi sono fatti benissimo veramente grazie niente parto subito con la mia raccolta di orologi perché non è una collezione come avrei visto i primi due sono due belle ciofe che se questi fossili qua vabbè passiamo oltre swatch e ironi a quarzo carino poi vabbè un timex timex ma laggiù non li vedo indiglue e poi questi qua sono quelli che mi ha ceduto mio padre questo bel v love accutron qua promosso questo è che non è niente male anni 70 mi sa più o meno anche questo sarà degli anni 70 un philip watch carico manuale molto sottile dress watch e poi seiko cos'è che era del lorenz e l'ho messo su quel seiko 5 l'e sport ha cambiato il cinturino a questo tisso brx e questo qua è quello che aveva poi vabbè per restare in tema ho preso il citizen su iosa bravo color tiffani e poi questo vaghery qua che non è niente male devo dire eh sì buon rorogino vabbè ti risparmio i cloni vari anzi guarda te li faccio passare alla svelta ma no la camera ma già ci facciamo quanto si usate un bel daytona ma no brightling ma no ma c'è tutti un altro rolex ma no marina che è una cosa imbarazzante non so neanche che cazzo mi è passato per la testa ma come si è messo ma come si fa ora a spendere tutti questi soldi no no io non lo concepisco non lo concepisco perché adesso è una malattia tutti questi soldi in orologi falsi di cui c'è da vergognarsi però i soldi ce li hai spesi oltre ad aver fatto un reato eh cioè diciamo la verità eh meno male che rimani anonimo poi il ciofecone lì del di quel cavolo di 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 victa lì quelli lì vanno vanno tanto di moda in sud america quelli lì diventano matie nelle favela so diventano matie e poi però prima c'avevi tutti gli altri orologini che già lì erano tutti entry level no entry level un orientino un vagarino e un cessino insomma già lì poi il fake e la ciofecca ora però vedo che mancano ancora quattro minuti quindi spero che mi mi farei vedere qualcosa di decente no è che che sia andato sulla retta via poi vabbè classico smart ma no niente di che questo bello swatch qua progetto l'altalanta e poi adesso una bella unboxing cosa mi fa vedere facciamoci questo unboxing qua vediamo un po cosa c'è dentro qua ma aspettavo eh un box chissà un box veloce però non si tiene così il coltello cazzo un longin già 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 mi rassicura vediamo vediamo bella la scatola eccolo qua eccolo lì il legend diver bello benissimo si beh mi sembra di aver detto tutto si ma ti faccio i complimenti ancora perché grazie veramente mitico e rock ciao 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 va bene dai hai preso il legend diver da 36 mm no quello che non c'è non non penso che vada per la maggiore penso che rimanga un po indietro come però ora sta per uscire quello da 39 ce l'avevo anch'io il 42 mm del legend diver ce l'ho avuto anch'io l'ho venduto anni fa perché era un pochino troppo grosso un pochino troppo poi quello che veramente non mi piaceva è il bracciale maglia milanese oppure anche se ci metto un cinturino perché alle ansie talmente lunghe che il bracciale a maglia milanese o il cinturino rimane molto staccato dalla cassa quindi già è un tutto quadrante da 42 mm poi con il bracciale che si staccava così a un certo punto mi ha stufato lato via lato via ora non so quando uscirà questo video ma sta per uscire uscirà il legend diver da 39 mm con il bracciale a chicchi di riso che gli si va a infilare perfettamente tra le ansie e quello lì io l'ho visto a marzo l'ho visto a marzo 23 ora siamo a ottobre 23 non è ancora uscito io l'ho visto a marzo e mi ha colpito mi è piaciuto prima o poi arriverà comunque per il resto ti sei salvato con l'ultimo orologio spero che quella lì sia il viatico no la nuova strada da intraprendere perché per il resto poi gli orologi falsi invicta gli entry leve che vanno benissimo per l'amore del cielo ma così tanti anche no però magari un giorno mi manderai una collezione che inizierà dal legend diver per andare verso altri lidi prossimo video ciao davide ciao saluto a tutti gli amici di contatori del tempo grazie sono antonio da rione rinvulturi a provincia di potenza voglio presentare velocemente la mia collezione bello bello iniziamo da questo pro master yes versione in titanio credo che non ha bisogno di presentazione ma no un regalo di mia madre per i miei 40 anni che in realtà mi aveva regalato un eco drive però io non sono stato soddisfattissimo di quell'orologio allora mi sono recato dal orologiaio deciso di sostituirlo con questo bravo fatto bene ancora giusto mamma ti voglio tanto tanto bene va bene è uguale zenit bello un po la storia di questo orologio praticamente io ho trovato il solo calibro con questo quadrante molto probabilmente ristampato era in un cassetto di mio nonno paterno è un 126 del 1952 e ho cercato di sistemarlo al meglio ho trovato questa cassa di uno sport si è un mezzo frankenstein ma per me ha un grandissimo valore affettivo va bene ed è perdonabile per l'amor del cielo è un ribot brutto di tanti marchi scomparsi con la crisi del quarzo è evidente che è un anni 70 monta un calibro 27 72 un grande calibro per l'epoca brutto è dico brutto perché per l'amor del cielo però ha un senso collezionistico di design cioè li vedi proprio gli orologi degli anni 70 come sono fatti come 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 si presentano quelle c'erano le lancette che sembravano nane le lancette nane proprio che faceva anche fatica a distinguere i minuti dalle ore però a livello collezionistico ripeto a tenere lì in bacheca insieme agli altri dire toh guarda questo degli anni 70 bla 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 che poi insomma a volergli bene andargli in giro e andarci in giro lancò lancò siamo sempre negli anni 70 se dal logo si vede calibro 24 81 della tesso era già faceva parte del gruppo omega tesso mi sa citizen l'ho aperto questo orologio ma non sono riuscito a capire di che calibro si tratta a me ma ora io non vorrei sbilanciarmi ma la scritta citizen lì non mi convince per niente non mi sembra una scritta originale mi dà l'idea di essere uno di quegli orologi fatti in india quel quadrante ristampato il calibro non sei riuscito a capire cos'è figurati un po la cassa così io non voglio sbilanciarmi ma la mano sul fuoco che è originale non ce la metterei alla prossima revisione chiederò bene al orologiaio speriamo eh classicone classicone cos'è 6.5 un 6.5 bianco bravo è bello tenere un 6.5 in collezione ho scelto questo modello perché mi faceva impazzire la lancetta dei secondi addirittura un pazzire e vabbè abbiamo un nivada nivada sempre negli anni 70 monta un calibro 2750 bella cassa questa c'è una bella cassa bel design orologino acquistato per pochi euro su una bancarella e niente vai di da scalico acquistato anche questo su una bancarella per pochi euro a me a vedere il bianco intorno ai numeri arabi mi sa come di ridipinto sai quando lo ridipingono chiaramente non hanno staccato i numeri probabilmente non si possono nemmeno staccare perché se magari sono realizzati a conio a pressione no e allora quando ridipingono il quadrante no con la pennellessa e hanno sbordato tutto intorno e fa questo effetto qua è brutto è monta un unità 6 3 2 5 ma potrebbe anche essere così anche questo qua qui siamo inizi anni 80 informandomi un po sul web pare che questi orologi sono stati assemblati in italia infatti è molto facile trovarlo nel mercato italiano mi sembra che hai preso cioè tra tutti assemblato un qualcuno l'è assemblato te qualcuno il citizen te l'hanno assemblato gli indiani qualcuno te l'hanno ristampato sto qua l'assemblavano in italia mi sembra che non è azzeccata una finora cioè ammettendo che che sia tutto negativo nel peggiore dei casi non è azzeccata una poco darsi che qualcuno si salva di questi ma ma la vedo dura ecco fatto saltarello saltarello della tisso carino siamo sempre negli anni 70 monton calibro 25 81 con scatto rapido della data premendo la corona niente ho sempre desiderato avere sia un saltarello che un tisso e ho cercato di fare due piccioni con una fava bravo due piccioni con una fava bravo anche sto qua e design anni 70 forte mamma mia vetta vetta monton calibro 11 20 non parlare troppo altro orologino acquistato sempre per pochi euro su una bancarella e bolova le bancarelle un calibro 5 cl2 a risparmio parla banca recita con questo cinturino qualche euro sulla bancarella va ai pigli quello che c'è c'è vuoi fermi tutti l'oncine ballo gli anni 60 ci siamo quasi la sua corona originale questo qual è azzeccata forse la fibbia non è la sua originale è sempre un originale della l'oncine e monton calibro 6922 6922 siamo fini anni 50 inizi anni 60 cavolo un calibro di forma è un 370 a il 370 370 di forma si se non mi sbaglio quel calibro lì il 370 lo si trova anche sugli orologi non di forma sugli orologi tondi trovi apri è proprio così li facevano proprio così apri e c'è il calibro di forma dentro che se il 370 che se non mi sbaglio perché a un certo punto avevano un magazzino l'incassavano anche sulle sulle casse tonde quindi se vi capitasse mai di trovare un longine con un calibro di forma dentro che non è che sembra che non è il suo non è detto che non che non sia suo è valutato perché lo faceva passiamo poi ad omega omega il dinamico di ginevra è un orologio che ho sempre sempre desiderato per trovarlo in queste condizioni favoloso adoro la sua cassa ufo tra l'altro sono state fabbricate in italia non lo sapevo monta un 565 con scatto rapido del giorno tirando la corona c'è c'è una bella una bella fetta di collezione di orologi di design degli anni 70 e cioè ora a maggior ragione prima ho detto quello che era brutto che ha ragione di esistere per visto che ne hai più di uno orologi con questa foggia diciamo futurista negli anni 70 era futurista no allora un senso uno di fianco all'altro vari marchi con tutte queste forme così anni 70 spinto hanno un senso complimenti il mio ultimo acquisto cos'è emilton emilton questo è nuovo mechanical versione bronzo bravo bellino questo può che dire boh meraviglioso in realtà stavo acquistando un day date ma appena ho visto questo me ne sono innamorato come si dice le farfalle nello stomaco e farfalle optato subito su questo le farfalle nello stomaco un questo capita ma il regalo di un amico perché ho fatto da testimone di nozze appunto a suo matrimonio niente ma cinesano perché si riesce a capire bene il funzionamento di un orologio però meccanico è sempre bello tenerlo in collezione e poi ha anche un valore affettivo si ma nascita esatta per se altro per sé o questa volta è un assegnato è un materno che era un ferroviere e non potete immaginare che valore affettivo questo bel colpo bravo sac con questo qua ribaltato la situazione e infine un cronometro della le mani anni 70 perfettamente funzionante e non la volevo mostrare anche questo carino bello bravo ringrazio a tutti saluto tutti e cosa dire viva gli orologi e viva la musica e viva la f*** ascoltava me sì diciamo che ha fatto un twist no un colpo di scena alla fine con il perseo del nonno veramente è tenuto perfetto da delle ferrovie no dopo qualche orologio dubbio preso sulla bancarella che non si sa se l'hanno dipinto o cosa finalmente ha preso l'hai azzeccata no e poi se anche molto vario come 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 orologi vai dagli orologi da polso vintage agli orologi da tasca vintage e moderni quello era una cioffecata il capital orologi moderni come l'emilton khaki field orologi di forma degli anni 70 insomma non ti fermi davanti a nulla è un'ampia un'ampia collezione nel senso soprattutto di scelte di decisioni di acquisti bravo dai ti promuovo nonostante il capital ma il prossimo video ciao davide ciao alberto dalla provincia di lecce ho 28 anni e volevo mostrare a te e tutti gli amici del canale la mia piccola e modesta collezione iniziata circa un annetto fa va bando alle ciance partiamo dal primo orologio nonché l'ultimo in nord acquistato in ordine cronologico un simpatico vosso can fibbia referenza 110 059 una versione famosa per il suo sommozzatore il cosiddetto scuba con il suo dial blu scuba juts e una referenza un po più insolita rispetto ai soliti anfibbia dal diametro in per cassa importante andiamo da 43 mm ma comunque un orologio che fa il suo dovere l'ho indossato praticamente tutta l'estate ci ho fatto molti bagni e ha fatto benissimo il suo dovere beh niente ruggine il secondo orologio è un eberhard aiglon aiglon referenza 41 116 di assieme 38 mm semplice incorpora un calibro eta 28 24 molto bello anche il suo bracciale molto semplice un orologio da utilizzare con semplicità tutti i giorni sta molto bene al polso io avendo un polso da 17 cm diciamo che fa la sua figura ma si bianco poi andiamo oltre andiamo oltre abbiamo un altro eberhard e l'altra volta un eberhard acqua date referenza 41 015 diametro cassa da 39 mm mi piace più questo un cinturino in pelle di struzzo mi piace più questo molto particolare e sono molto belli gli indici in oro bianco è un orologio che si presta benissimo a molti usi sia più formali che più informali lo uso moltissimo ed è un orologio a cui sono molto affezionato e credo che per il prezzo a cui si trova sia veramente di ottima qualità ha delle rifiniture veramente ben fatte se il quadrante bianco è piacevole non disturba e non lo non lo ingrandisce troppo è già secondo bianco che hai uno degli ultimi a chi ha più un orologio molto particolare che non ho mai visto sul canale e questo maurice lacroix masterpiece referenza 27 294 è una referenza conosciuta anche come five hence per via del fatto di avere cinque lancette ossia le sfere dei secondi dei minuti delle ore del giorno della settimana e del giorno del mese come si può sì però è brutto mamma mia è brutto quella cassa così fatta tutta ondine troppo classico troppo classico le sfere breghe vedere sul quadrante ci sono anche dei riflessi madre perla la cassa è cromata in oro a 20 micron e il suo cinturino in pelle di lucertola blu è estremamente ben fatto è un orologio molto particolare molto barocco se vogliamo e ha anche dei difetti importanti soprattutto legati alla alla sua lettura nel senso che è un po confusionario però allo stesso tempo la stranezza la sua particolarità lo rende comunque molto interessante a uno spessore comunque limitato e il suo fondello a vista mostra il calibro eta 28 36 2 calibro comunque simpatico diciamo simpatico un orologio particolare che ho voluto comprare proprio per la sua particolarità per distinguersi un po dalla dai soliti orologi già visti tagliamo sono sicuro che a te non piacerà anche per via dei suoi numeri romani e un po l'affollamento sul quadrante però ci tenevo a chiederti un parere su questa referenza su questo orologio così particolare l'annata dovrebbe essere il 1992 questo è quello che sono riuscito a rintracciare anni 90 in ultimo una piccola chicca questo qui il classico orologio che è venuto fuori dal cassetto del nonno gonfia un omega seamaster la referenza dovrebbe essere la del 1959 seamaster che incorpora un calibro 285 e sicuramente gli è stato fatto qualcosa in quanto la sua corona non è originale ma il fondello però presenta diciamo il l'incisione del cavalluccio marino le sfere sembrano essere quelle originali la secondi l'orologio è perfettamente marciante diamo un po di carica e lui va non riesco solo a capire se gli indici siano stati sostituiti in qualche modo ristampati perché come come puoi vedere si intravedono delle impunture su ogni indice la referenza comunque il numero di serie e 17 milioni 900 e qualcosa quindi sicuramente prodotto nel 1959 non riesco però ad essere certo della sua referenza effettiva su questo magari potrei chiederti un aiuto una mano bene è tutto ti ringrazio per lo spazio che ci dedichi grazie a te grazie per far crescere in ognuno di noi la passione per questo simpatico mondo degli orologi simpatico braccio un love non lo so non ti so aiutare a me mi sembrava ti hai detto la corona che non era sua ok a me mi sembrava anche che la sfera dei secondi non fosse la sua troppo chiara troppo differente come finitura sul quadrante non mi sbilancio non lo so un sistema per vedere se il quadrante è veramente originale no al di là di andarci a sbattere il muso sempre dentro così sarebbe quello di smontarlo e guardare dietro cosa c'è si riconosce dal retro se è originale o se non lo è per il resto tutti i meglio orologini dai non non so nemmeno più cosa dirti in parere sul mare sulla croata e l'ho detto seduta stante perché molto anni 90 molto chicci veramente chicci cioè tutto dorato placato numeri romani cassa ridondante un sacco di lancette nel quadrante bocciato per comunque dai io ti promuovo te che ci hai messo la passione dai almeno te ti promuovo gli orologi bocciati ti promosso dai prossimo video ciao davide ciao mi chiamo nicolas e vivo treviso ho una piccola collezione di orologi che volevo mostrarti ma prima di iniziare volevo farti i complimenti per il tuo canale grazie lo trovo veramente molto molto interessante e più di contenuti davvero ben fatti grazie ok possiamo iniziare con questo è un per seo carica manuale mettiamo lo metto a fuoco un po meglio ecco qua con lancette blu mi piace molto è stato regalato a mio nonno che a sua volta l'ha regalato a me ma è niente lo tengo vicino alla scrivania giusto per avere un orologio per guardare l'ora che non sia digitale bravo ok andiamo avanti il secondo orologio sempre di mio nonno che mi ha regalato è un The Justin molto molto formale classico è un 36 mm 5 cifre degli anni 80 oro bianco indici applicati sempre nonno che nonno bianco funziona ancora molto molto bene è tutto coevo con il suo la sua epoca diciamo è la sua epoca vetro plexi logo sulla corona e che altro a dire è molto molto formale l'uso pochissimo solamente in occasioni speciali restando in casa rolex vai ti faccio vedere l'acquisto che ho fatto per la nascita di mio figlio bravo congratulazione questo sun mariner cifre 16 610 classicissimo eccolo qua in tutta la sua in tutto il suo splendore e la sua classicità non so neanche se esiste come parola l'ho preso per ricordarmi sempre della nascita di mio figlio un paio d'anni fa 300 metri profondità super classico niente in realtà di estremamente speciale però volevo un sub nella colazione lo trovo perfetto come l'orologio di tutti i giorni passiamo a casomega con il primo orologio che ho comprato per i miei 30 anni ed è questo un Seamaster 300 m diver tutto nero tutto con cinturino in caucho ghiera monodirezionale 120 scatti e che dire è molto moderno c'è il un calibro classiale 8800 con fondello a vista veramente veramente strepitoso da guardare lo uso molto spesso quando vado in piscina vado al mare e fa sempre la sua porca figura o anche il bracciale originale però lo uso molto poco perché lo trovo più carino col col cinturino in gomma andiamo avanti e prima di mostrarti l'ultimissima chicca ti voglio mostrare questo spill master eppela molto particolare e poco apprezzato dalla community secondo me infatti sono riuscito prendono un prezzo estremamente ragionevole perché è poco apprezzato si tratta della referenza 3594.50 è un bordarro con calibro 1861 utilizza la stessa cassa del professional perché in realtà è stato il primo a incassare da quanto ne so da quanto ho letto il calibro 1861 e l'hanno fatto proprio per e l'hanno fatto così proprio per richiamare il primissimo speed master infatti se guardiamo dietro non c'è scritto non c'è nessuna scritta niente che riguardi l'allunaggio o lo spazio quindi sarebbe una vuole emulare omaggiare il primo speed master quello che è stato testato e che è andato sulla luna tutti quelli che hanno la scritta dietro praticamente vengono dopo no a logica no lo dico per gli amici neofiti che stanno guardando quindi per fare un omaggio al primo andava fatto così con il fondello senza niente lo trovo davvero eccezionale adesso ho chiamato cinturino perché volevo qualcosa di verde per questo periodo ma ho anche sul cinturino regionale lo trovo veramente unico è un po' differente rispetto a casi come watch che prima o poi comunque recupererò ma non la sua ultima versione preferisco trovare magari qualcosa di più e più vintage come ultimo pezzo mi è arrivato settimana scorsa cos'è cos'è è ancora un altro speed master dimmi un po' che ne pensi eccolo qua in tutta la sua bellezza questo è una edizione limitata del 2016 ck 2998 cassa del foice da 39 mm ansia 19 scusami e come cassa del foice il foice serve il first omega in space ok 39 mm con le lancette così alfa si chiamano alfa le lancette fatte così che io per tanto tempo ho studiato perché mi piaceva perché era uno dei papabili 39 mm l'unico problema che il first omega in space esce solo con il cinturino in pelle e allora io mi sono messo a studiare su come poter mettere un bracciale in acciaio su questo foice e sono andato sui forum americani della nasa dove ti pare a te dove c'erano i salti mortali per adattare un bracciale di un tipo di omega mettendo dei finali di un altro tipo con la chiusura di un altro tipo che alla fine comprare il bracciale più chiusura più finali ti viene a costare quanto all'orologio no è una roba a salti mortali ora qua vedo che c'è che c'è sto bracciale qua allora esiste il bracciale per l'omega foice se la 19 lo trovo stupendo bello sì veramente stupendo richiama un po gli stilemi degli anni sessanta con le lancette alfa la lancetta cronometrica lollipop i colori sono fenomenali secondo secondo me simpatico per quanto riguarda il bracciale questo non è suo ma è di manufattura forstner ah beh e allora siamo buoni tutti dillo subito no è di manufattura forci hai messo un bracciale aftermarket ecco una cosa che abborro come dice mughini abborro e mettere su orologi costosi di pregio bracciali di aftermarket no cinturini si quanti ne vuoi perché ti diverti bracciale no non so che non so che non chiedetemi perché ma non lo trovo una mancanza di rispetto nei confronti dell'orologio poverino è così di aftermarket questo e allora sono buoni tutti vabbè comunque interessante sapere da dove viene la tua versione e sia quella pulsometrica uscita qualche anno dopo uscivano solamente con i cinturini in pelle io lo preferisco con cinturino d'acciaio poi magari cercherò qualcosa di originale ma al momento originale non ce n'è tantissimo trovare qualcosa che possa andar bene a un 19 mm e a questa versione faccio vedere il dietro è brutto accuratissimo e il bracciale la clasp veramente eccezionale bene con questo è tutto tu ti ringrazio per il tempo spero di essere stato abbastanza conciso ma sì a presto a presto e un saluto a te e a tutta la community ciao bravo 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 allora la particolare la tua particolarità è quella di avere ben due omega speed master due cronography speed master dei quali nessuno dei due è il mu watch o un colpo di testa particolare no perché poi c'è c'è anche spesi dei soldoni per prendere prima uno prima l'altro quindi vuol dire proprio che vuoi quelli lì poi dici che prenderai anche mu watch va bene ti credo però intanto la tua scelta originale è caduta su quei due lì non si può vedere il bracciale quando l'hai girato si vedeva la clasp in lamierino opaco di quelle tipo orient no e io non ce lo metto su un omega speed master un bracciale con la clasp così ci mette un cinturino fatto bene con una deplo con fibia ardiglione no te hai detto che poi ti metterai a cercare ecco quando ti metterai a cercare scoprirei che bisogna fare i salti mortali per permettere un bracciale originale omega dello speed master su quello lì i salti mortali e i bagaroni mortali cioè a spendere 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 prossimo ciao davide dopo tanti video visti mi sono deciso a farne uno anch'io ti faccio vedere un po dei miei orologi vai cominciamo dalle cose più facili voce mirko voce tisso prx paromatico 80 simpatico carino mi piace sempre restando più o meno intramatica emilton intramatica 38 millimetri l'età 28 92 ma l'orologino dress watch dress watch fregato dress watch no perché l'intramatica quello lì è senza sfera secondi avete visto sfera minuti sfera ore e poi c'è il datario bianco così a ore 6 che spara è inutile che non metti la sfera dei secondi per voler essere elegante classico e poi mi ci metti la finestra data bianca ore 6 no dovevi andare dovevi continuare per la tua strada dico gli amici di emilton farlo senza data senza lancetta dei secondi è bello minimal classico veramente un dress watch così non mi piace poi passiamo a due tudor 1926 metri dai al nero questo molto molto bello 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 ma avrete watch se l'ite sv 200 molto sottile un bello reloce se l'ite sv 200 io credo che in casa ancora età 28 24 tudor sai se non se non vado errato sempre in casa tudor un tudor royal 38 millimetri top molto un po sbriluccicante questo è un bello orologio questi numeri romani lì in vista passiamo in casa lungin idro conquest crono 40 millimetri 300 metri di impermeabilità sportivissimo nel loro genere però questo è un bell'orologio decisamente un orologio di peso col bracciale così è un bel mattone da tenere tutto il giorno però proprio bello è un po sopra le righe visivamente e per finire sempre in casa l'unico spirit zulu time 42 millimetri ghiera verde questo è proprio bello secondo me questo orologio sembra molto più costoso di quello che in effetti è da un'idea di cura dei dettagli veramente veramente notevoli poi ultimo arrivato bravo top 9 bravo un pilot di 40 millimetri veramente bello fatto ho fatto proprio bene la cassa è lavorata proprio ottimamente passiamo un po di cose vecchie e anche un po strane un po di tempo fa mi sono appassionato a un brand svizzero che ora non esiste più o se esiste ma non è mai un po di comunque si ha perso molto del lustro che aveva in passato il brand è romer ai tempi faceva orologi integralmente in house faceva anche i calibri no quella romer lì non esiste più mi sembra che esiste adesso il brand romer ma licenza non so se indiana o brasiliana insomma se fai una ricerca bene bene attenta che non ti compare subito addirittura nei risultati trovi un sito web nei quali vendono orologi che non si possono guardare probabilmente è finito in mano di qualche disgraziato che vabbè e ne ho un po cominciando con questo questo è un anfibio meccanico carica manuale fine anni sessanta inizi anni sessanta più o meno una cosa di questo genere la cassa ha un po' di brevetti che vengono orgogliosamente riportati anche sul fondello dell'orologio passiamo uno si rock bello che questo bella cassa questo anche questo meccanico carica manuale questo è più recente siamo fino inizio anni settanta più o meno 71 to poi un automatico questo è un vanguard 316 passiamo un calico di manufattura mst 471 è molto particolare colore rosso decisamente non passa inosservato rosso e bronzo gold sta bene stingray tutti questo con il brevetto sulla cassa questo è un bel dress watch piccolino sono 35 millimetri di diametro ma proprio bello fatto molto bene è simpatico quello che ci ho messo di più a recuperare invece è questo mustang incassa anche questo lo stesso calibro di prima mst 471 automatico molto strano come come forma ci sono dei nido se non sbaglio adesso che hanno una serra di questo genere se c'è il mito che così è ma degli anni settanta andavano e dulcis in fondo questo si rock elettronic questo monta un calibro di quelli elettronici come quelli che vengono incassati anche da longine da altri brand questo è il primo giro poi magari ti mando un altro va bene altri orologi grazie di tutto grazie a ti ciao 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 quest'ultimo quattro orologio qua che hai fatto vedere col calibro elettronica c'era scritto ma si elettronico ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io nel nel mio longine ce l'ho perché era un consorzio che faceva di casa svizzera che faceva questo calibro elettrico che cosa aveva aveva ancora il bilanciere però la parte restante era elettrica c'è il transistor dentro non so quanto sono durati poco poco io ce l'ho e per avercelo ho preso un orologio un longine cioccolatone placcato oro veramente brutto però il mio scopo era quello lì di avere quell'orologio lì da mettere nella collezione insieme agli altri calibri anno per anno un po come hai fatto te hai deciso questo è il bello hai deciso di fare collezione dei romer è bello prendere un marchio e decidere ora mi concentro su questo marchio lo studio perché vado a vedere gli orologi che ha fatto e piano piano ti fa la documentazione te ne salvi in una cartella te la fai cartacea come ti pare a te dopo quando va in giro li vai a cercare e se ti capita la bancarella dove ti vendono un romer che è un acrocchio e te ne accorgi perché a forza di vederli di studiarli e di cercarli sai che quello lì non va bene o quell'altro va bene no e poi hai scelto anche un marchio romer che probabilmente te la cavi anche con poco non è che hai scelto omega zenith longine che insomma i prezzi con quelli lì te la cavi anche con poco è per questo che dico si può prendere spunto anche da questo amico qua ti scegli un marchio non è l'anco ti scegli l'anco ti scegli certina ti scegli di temere un altro che vetta e poi procedi su quella linea lì è più divertente secondo me perché anch'io a volte andavo a caso mi prendevo un tisso vintage poi uno zenith vintage poi un lanco vintage poi un marchio che è scomparso vintage poi quando hai trovato lì che ce l'hai tutti lì accumulati uno dietro l'altro tutti in fila lì senti un po un senso di vuoto no come dire ma perché ce li ho tutti così devo trovare un filo logico che che mi leghi e lo puoi trovare anche con marchi diversi che ne so vuoi cominciare a fare tutti gli orologi vintage no qualsiasi marchio dal 61 al 69 quel decennio lì cazzo dopo devi dire anche se è sicuro che sia l'anno la cosa più difficile è sapere l'anno di produzione dopo deve studiare allora in quel caso lì se vuoi un decennio hai ragione di prendere tutti i marchi diversi ma secondo me più è più divertente scegliere un marchio andare dritto su quello farti una collezione di quel marchio lì che quando lo apri hanno tutti un senso questo è l'ongine del 69 questo del 72 per nel 75 ne hanno fatti così poi così per questo calibro qua questo così per me è così comunque banda le ciance ho parlato anche troppo comunque dai grazie per il video bella collezione iniziale con tanti belli orologi tanti bei top ti sei preso è bella la collezione dei vintage che non si è andato a divagare fuori dai romer solo romer mi sembra ad aver detto tutto dai vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video e il video in generale il presentatore il contesto e l'orologio del giorno poi spero vi sia piaciuta anche la mia telecamera così abbiamo fatto l'unpline vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love